Un proverbio indiano dice Questo video parla a voi, a tutti voi che mi criticate, che mi insultate. Voi, sì, proprio voi. Voi che dite che mi approfitto dei deboli, delle debolezze delle persone. Siete voi i primi che dovrebbero lavorare su se stessi. Provateci a pensare. Che cosa vi spinge a criticare? Che cosa vi spinge a gettare giudizi superficiali sugli altri? Volere avere ragione e avere l'ultima parola su tutto. Parlate dei deboli come se fossero una razza a parte, dimenticandovi che tutti noi abbiamo delle debolezze, nessuno escluso. Ci sono delle persone però che sono disposte a lavorare sulle proprie debolezze, altre invece no. Ad oggi fortunatamente sono milioni le persone che sono riuscito a raggiungere attraverso i miei contenuti, i miei video. E so perché mi scrivete in tantissimi che là fuori è pieno di problemi. Ci sono persone che fanno un lavoro che odiano e purtroppo non sanno come cambiare. Ci sono persone che continuano a vivere in una relazione dove non c'è più passione, non c'è più amore. Ci sono persone che purtroppo non sono in salute. Ci sono ragazzi che sono persi tra alcol, violenze, droghe. Ci sono genitori depressi perché non sanno che futuro spetterà i propri figli e si sentono impotenti al riguardo. C'è chi ha subito violenze, stupri e ora ha paura di vivere. Ci sono persone che purtroppo hanno perso chi amavano tragicamente e non riescono a dare un senso a tutto questo dolore. Nel mondo non possiamo nasconderlo, c'è tanta sofferenza. E io con i miei video, con i miei eventi, con i miei libri, provo a fare la mia piccola parte. Non pretendo di essere un guru, di essere un maestro. Sono una persona che ha vissuto delle esperienze e le vuole condividere con le persone. Che ha sviluppato delle competenze extra perché ha fatto diventare la crescita personale una sua ossessione, una sua ossessione maniacale. E ha deciso di mettere tutta questa esperienza al servizio degli altri. E poi ci siete voi. Voi che accusate superficialmente il lavoro degli altri. Sparate giudizi senza conoscere davvero in profondità. Beh, a voi vi chiedo... Beh, voi cosa state facendo al riguardo? Che cosa state facendo per migliorare il mondo dove vivete? Voi che mi accusate di dire cose scontate e che sparo solo banalità, vi dimenticate che le cose scontate non sono così scontate nella pratica. Ovvero che proprio perché sono scontate ci dimentichiamo di metterle in pratica. E magari, pensateci, siete proprio voi a dimenticarle. Anche perché altrimenti non fareste certi commenti. E io non vi giudico. Questo video non è un video accusatorio. È un video che vuole magari farvi fare dei ragionamenti. Perché non vi giudico, ma rispetto il vostro punto di vista. Perché conosco molto bene lo schema che purtroppo state vivendo e che vi sta impedendo di vivere liberi. Sono consapevole, come diceva un grande, che l'accusato è colpevole di aver provato ad influenzare la corte con la verità. Proprio perché la verità fa male. La verità dà fastidio. Tuttavia, ammiro chi prova a fare la sua parte. Chi agisce. Chi è determinato. Chi non pensa ad accusare, ma a fare. Chi cerca di contribuire al benessere del mondo. E se ci guadagna per questo, ben venga. Perché significa che può fare il suo lavoro al meglio. Io ad esempio ringrazio tutte le persone che hanno guardato un mio video o che poi hanno comprato magari un mio libro. Che hanno comprato un videocorso. O che sono ancora meglio venuti ad un mio corso dal vivo. Li ringrazio perché mi permettono di svolgere il mio lavoro. Mi permettono di migliorare quello che sto facendo. Mi permettono di continuare a studiare, ricercare, sperimentare. Grazie a voi, grazie a tutti voi, posso continuare a vivere questo sogno incredibile. Quello di aiutare le persone. Quello di fare la differenza nelle vostre vite. Un giorno ho letto questa storia bellissima che mi ha fatto riflettere tanto. Era un giorno qualunque, in una foresta, scoppiò un incendio incredibile. E tutti gli animali spaventati dal caldo e dalle fiamme dirompenti iniziarono a scappare verso il fiume. E anche tutti gli animali più grandi, come ad esempio il leone, l'elefante, la giraffa, si sentivano impotenti di poter fare qualcosa al riguardo. Sapevano solo scappare il più lontano possibile. Ad un certo punto il colibri, al contrario di tutti gli altri animali che stavano scappando, iniziò a prendere delle piccole gocce d'acqua dal fiume, con grande determinazione le portava sopra l'incendio per provare a spegnerlo. Ovviamente avendo un becco molto piccolo il colibri non cambiò nel modo più assoluto la situazione dell'incendio. Però accadde una cosa bellissima. Gli altri animali iniziarono a deriderlo perché vedevano questo colibri rischiare la vita per nulla. Ma viaggio dopo viaggio, piano piano, gli altri animali iniziarono ad ispirarsi al coraggio del piccolo colibri. E allora anche magari un piccolo elefante, un leone, una gazzella, una giraffa, iniziarono piano piano a portare acqua e quindi tutti insieme riuscirono a spegnere l'incendio. Ecco, io con grande umiltà mi sento come il piccolo colibri. Sto facendo la mia piccola parte e magari grazie al mio esempio posso ispirare tante persone che come me inizieranno a portare più felicità nella propria vita, più entusiasmo, più gioia, più positività. Quindi ringrazio tutti voi che mi seguite, che condividete i miei video e che cercate di portare là fuori attraverso il vostro esempio questo desiderio di vivere la vita appieno. E quindi anche se ogni tanto arriva qualche insulto, qualche accusa, sono poi tantissimi in confronto tutti i commenti positivi e quindi io continuerò a fare quello che faccio con ancora più entusiasmo e più energia perché se anche una singola parola all'interno di un video vi aiuta a fare un sorriso per me è importantissimo e mi gratifica più di ogni altra cosa. Seguitemi nei prossimi giorni perché sto girando un sacco di video nuovi e ho tantissime, tantissime cose da condividere con voi. Ci vediamo nel prossimo video.